Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV Siti in apertura alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto due fabbriche di abiti falsi, sequestrati 6.000 capi di abbigliamento, contraffatti non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Visuviano, continuano ad aumentare le guarigioni a Torre del Greco, domani il ritorno tra i banchi di scuola per gli studenti della Campania, De Luca, la situazione è nettamente migliorata rispetto ad un anno fa, sarà celebrata questa sera dall'Arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica Pontificia di Santa Croce in occasione della festa della Santa Croce. In chiusura siamo sempre a Torre del Greco dove è ripartita la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, ma non mancano le lamentele dei cittadini, questo ed altro, guardiamo i servizi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto nel corso di due distinti interventi due vere e proprie fabbriche del falso e 6.000 capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. Nel corso di un primo intervento le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno sottoposto a sequestro un opificio clandestino e 2.000 capi di abbigliamento contraffatti. In particolare, durante un controllo su strada a Cimitile, i finanzieri hanno fermato un 48 enne che trasportava all'interno della sua autovettura diverse centinaia di articoli privi di documentazione amministrativo fiscale di supporto. Le successive perquisizioni condotte sia presso una società di articoli sportivi di Saviano che nei confronti di una ditta individuale di Ottaviano hanno permesso di ricostruire la filiera di commercializzazione della merce, nonché di sequestrare un macchinario composto da sei linee di produzione e una pendrive utilizzati per la creazione dei capi di abbigliamento contraffatto. Denunciati dall'autorità giudiziaria tre responsabili, l'autotrasportatore, la rappresentante legale della società e il titolare della ditta individuale. Nel corso di un secondo intervento i baschi verdi del gruppo pronto impiego hanno notato nel quartiere fuori grotta del capoluogo trasferimenti sospetti di merce e fermato un soggetto che usciva da un edificio trasportando grandi buste di celofan contenenti t-shirt prive di marchio. La successiva ispezione dell'abitazione e di due locali nella sua disponibilità ha portato alla scoperta anche in questo caso di un opificio clandestino attrezzato con termopresse per la posizione dei marchi e utilizzato come deposito di circa 4.000 capi, già confezionati e pronti per essere messi in vendita. Il responsabile, un 35enne napoletano, è stato denunciato. Le operazioni rientrano nell'ambito della costante azione di contrasto della contraffazione da parte delle fiamme gialle partenopee a difesa non solo del made in Italy e della sicurezza dei prodotti ma anche degli imprenditori onesti e dei consumatori. Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Tante le guarigioni nel comune di Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera, infatti, sono 20 le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19. Si certificano invece 16 nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati con 97 attualmente positivi, di cui 10 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, non si è registrato nessun nuovo caso di contagio a fronte di 26 tamponi processati. Al contempo si registrano tre guarigioni. Sono 61 i cittadini attualmente positivi. Nel comune Oplontino, inoltre, l'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti nella settimana che va dal 6 al 12 settembre è pari a 41,11. Il dato della regione Campania è di 46,25. Domani rientro tra i banchi di scuola per bambini e ragazzi delle regioni Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana. Secondo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, l'anno scolastico inizierà con grande serenità. Abbiamo in Campania, spiega, il livello più alto di vaccinati nel personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dunque è ottimo il livello di vaccinazione. Dobbiamo fare uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Dal punto di vista della scuola, per la verità, abbiamo una situazione di grande tranquillità. Sapete che siamo la regione d'Italia che ha avuto il livello più alto di vaccinazione del personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, abbiamo un ottimo livello di vaccinazione, siamo al 75% per le secondarie superiori. Dobbiamo fare ancora uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Ma siamo in una situazione incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere. Procederemo poi con i tamponi molecolari nelle classi sentinelle e manterremo alto il livello di attenzione e controllo. La situazione in ogni caso è incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere. Conclude. Oggi dobbiamo fare l'ultimo tratto se vogliamo stare tranquilli. Credo che cominciamo l'anno scolastico a metà settembre, oggi in condizione davvero di grande tranquillità. Procederemo ovviamente con i tamponi molecolari nelle classi sentinella, quindi manterremo alto il livello di attenzione e di controllo, ma devo dire che siamo molto fiduciosi. Per il resto estendiamo il Green Pass quanto più è possibile. E sulla terza dose di vaccino De Luca non usa mezzi termini. Non ho timori, darò l'esempio. Partiremo con la terza dose dalle residenze sanitarie assistenziali, dagli anziani, dalle persone con disabilità, dagli immunodepressi e dai fragili. Sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, la solenne celebrazione eucaristica questa sera alle 19.30 nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco. Dopo il triduo di preparazione alla festa della Santa Croce iniziato sabato 11 settembre, le celebrazioni culmineranno oggi, martedì 14 settembre. Dopo il rosario delle 19, seguirà la messa, che sarà anche trasmessa sulla pagina Facebook della Basilica. Non mancherà la benedizione con il legno della Santa Croce. L'esaltazione della Santa Croce è una festività della Chiesa Cattolica, della Chiesa Ortadossa e di altre confessioni cristiane. In essa si commemora la crocifissione di Gesù, con il particolare obiettivo di sottolineare la centralità del mistero della croce nella teologia cristiana. Il termine nasce dal rito, che prevedeva l'innalzamento di una croce e la sua ostensione ai fedeli, il ricordo dell'inalzamento di Gesù Cristo sulla croce e dell'ostensione del suo corpo sacrificale. Nella celebrazione eucaristica, il colore liturgico è il rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce. La festività ricorre il 14 settembre, il ricordo del ritrovamento della vera croce di Gesù da parte di Sant'Elena, avvenuto, secondo una tradizione, il 14 settembre del 327. In quel giorno la reliquia sarebbe stata innalzata dal Vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all'adorazione del croce fisso. Riparte la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Torre del Greco e non mancano le lamentele dei cittadini. Da ieri lunedì 13 settembre è possibile ritirare i sacchetti all'Eco Point di Palazzo La Salle o a quello dei Molini Marzoli. Per evitare assembramenti è disposto l'accesso alternato in ordine alfabetico, secondo il calendario disposto dal Comune. Tanti cittadini in fila questa mattina ai Molini Marzoli. In molti hanno ribadito ai microfoni di TV City le carenze del servizio. So che hanno iniziato a distribuirle solo da questa settimana e non dal primo settembre, come mi avevano detto la volta scorsa. Non saprei risponderele in merito poi al trattamento di questi rifiuti una volta depositati, questo non glielo so dire, anche se le voci non sono molto incoraggianti in proposito. La città è sporca o pulita? La città mi sembra sporchina in effetti, per usare un eufemismo diciamo, quindi si potrebbe fare meglio ecco. Anche perché tutto questo vanifica poi l'impegno invece dei cittadini virtuosi? Certo, certo, certo. Teniamo conto che abbiamo anche da pagare una tariffa taria abbastanza salata. Abita in via Cefaloni a Marti d'Africa, la funziona come ritiro delle differenziate, cioè abbiamo i bidoni giù al palazzo, ogni condominio viene effettuata regolarmente. Ci sono dei punti un po' più abbandonati, non lo so perché, ci sarà qualche motivo però, però vedo che nelle zone più alte di Torre del Greco viene un po' più mantenuta pulita. Questo è quello che vedo, nelle zone più alte, determinate zone sono più pulite, determinate zone magari pure qualche cittadino che magari non rispetta i giorni e non viene raccolta, forse sarà questo. Questi kit secondo lei dovrebbero essere distribuiti più spesso? Ma sì, perché non ce la facciamo, sì, questo sì, li compriamo, molte volte li compriamo ai supermercati perché non sono sufficienti. La volta come si deve non sono sufficienti. Secondo lei la città è sporca o pulita? Sporca, molto sporca. Voi la vedete pulita? Io no. Dove siamo noi, diciamo, via di Libia funziona, però quando arrivano i camion, vanno a scaricare, miscono tutto, anche il sindaco Borrillo, non so se la vostra telecamera oppure la telecamera su, che vedete i camion miscono tutto. Anche le strade sono molto sporche? Tutto, tutto sporco, i spazzini sono i neri che puliscono le strade, c'è una città di 50 nere per una persona, magari quelle poche strade, altrimenti i spazzini voi li vedete, io non li vedo. Sono poche queste buste? Sì, queste sono tre buste fino a gennaio. Quante volte le dovrebbero distribuire in un anno? Ma secondo me una volta a mese adesso ne distribuiscono, minimo una volta a mese. Giustamente per chi fa la raccolta differenziata sono poche? No, ma sì che sono poche, queste devono lavorare fino a gennaio, fino a gennaio se quanti mesi sono, sono parecchi mesi. La città è sporca o pulita? La città è sporca, prima era più pulita. Prima quando? Il comune si fosse aperto tre giorni alla settimana, per mezza giornata, ma se dipende da un comune, non sono tutti altri giorni. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 656 1484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. La città è stata un'email all'indirizzo redazione